In tanti vi siete prodigati perché Paolo e Francesco trovassero il modo di risollevare il loro amore. Non è stato facile, ma grazie al vostro prezioso aiuto, le cose sembrano poter tornare sul giusto binario. La vita di tutti i giorni può essere stressante, ma mai dovete lasciarvi prendere dalla routine, dargli la possibilità di diventare la vostra unica realtà. E' importante ritagliarsi sempre degli spazi da dedicare alla persona con cui avete deciso di condividere la vostra vita. Perché in fondo quando si decide di intrecciare la propria vita con quella di qualcun altro, molte cose cambiano. Il nostro punto di vista cambia, le nostre abitudini. E se a volte si rinuncia a qualcosa o si cambia un po', lo si fa per qualcosa di più grande. Per trasformare due cuori in un unico amore eterno. Per trasformare due cuori in unico amore.